a sciobala benvenuti al canale di random games vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale e lasciare un bel like mi ricordo lasciate un bel commento e buona visione ok bene bene let's go cazzo di malda fammi passare fammi passare cazzo fammi passare cazzo non ripeto la più cazzo ok bella questa musica super copyright perfetto super salto cos'è facciamo cos'è perfetto nessuno molere qui eh io non molere mai cazzo assere il primo vai colle 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 vai colle 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 cos'è perfetto salto che cazzo fatto eh oh mo qui oh che cazzo cazzo non essere più plemo essere il problema cazzo che cazzo ok salto cos'è perfetto non essere più plemo deve essere terzo però eh posso ancora recuperare posso ancora recuperare non vuole che cazzo che cazzo aveva appena detto che io potrei recuperare mamma mia faccio cos'è cos'è prima blocco nessuno mi fa il male perfetto così blocco così si gioca blocco vada qua che cazzo oh ok perfetto ma qui jumpa perfetto prendiamo il checkpoint cos'è 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 che cazzo che cazzo io sono il numero uno eh nessuno mi batte la faccio cos'è super l'opiblo super l'opiblo super l'opiblo super l'opiblo perfetto cos'è cos'è e mo blocco si fa cos'è no che cazzo aveva appena detto eh cos'è 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 perfetto perfetto eh io resto lo stupido eh rifale rifale allora cos'è perfetto cos'è cos'è perfetto via let's go e si parte numero due blocco si riparte blocco dove è spider oh spider man vai dietro spider man oh voglio essere io plemo spider man perfetto così si fa blocco cos'è oh spider man che cazzo tu essere devo essere super l'opiblo super l'opiblo super l'opiblo super l'opiblo devo essere super l'opiblo più forte di te andare via perfetto cos'è adesso ho un problema ah ma che cazzo ok cazzo mi essere spaventato eh perfetto così così perfetto possiamo passare di qui passare di qui super jump super jump oh che cazzo mamma mia cos'è perfetto cos'è perfetto non prendiamo gomma di slada perfetto jump perfetto così essere perfetto eh perfetto eh eh perfetto eh perfetto eh eh mamma mia essere più forte di xyuda eh 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 non mi battere nessuno eh xyuda se tu vedrai questo video io ti sfido eh se tu sfidala ma io essere contento eh eh per fare sfida con me io batte le tue ok perfetto così ma si salta qui e salta qui perfetto ma sulla foglia guarda qui mamma mia sono una lana lana di loccio ecco qua perfetto salto qui mamma mia contro l'ischio sono contro l'ischio perfetto già appena già appena che bello cos'è cos'è non essere ancora oh oh mamma mia stavo per dire di non essere più molto perfetto cos'è perfetto ok cos'è mamma mia io non parlare più a stare zetto con tutto il video sto batman ok salta ok ce l'abbiamo fatta mamma mia mamma mia mamma mia ora che stavo ancora per sbagliare ok se fare così blu nel celanga nel celang ok dal fatto salto qui salta qui mamma mia volevi fregare me va così mamma mia guarda qui va così perfetto io jumpo qui già mamma mia jumpo qui jumpo qui perfetto ma guarda qui che bello mamma mia mamma mia che cosa so mi fregare sempre ho bene così così nel cielo nel souling mamma mia ma ok perfetto oh che cazzo è questo? oh dale dale che cazzo è questo? che cazzo? cos'è? ma che schifo mi sarei sporcato di visa dai ne voglio 5 dai dai oh cazzo mi sa che è arrivato uno da noi cazzo! dobbiamo correre? dobbiamo correre? questo qua si raggiunge? che è? principessa di bluxella? perfetto cos'è? perfetto cos'è? ah questi non devo prenderli mi sa eh? perfetto cos'è? nel cile oh che schifo ma io posso lanciare le cose? aia ah caleona ah voleva voleva ancora me guarda qui guarda qui ah 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 caleona voleva incollare me ma qui come passare? essere troppo glosso? fatto cos'è cos'è e cos'è oh oddio oh qui mystery box? ah ve l'hai capito? ho giampato questo ho giampato questa praticamente oh a livello nuovo che bello oh che bello spazio oh cazzo può essere qui? mamma mia ok andiamo avanti eh perfetto cos'è? perfetto ma quanto bancale ha? ah lì 11 su 20 può essere eh? mamma mia allora facciamo cos'è? perfetto questa è tutta questione di skills eh? tutta questione di skills tutta questione di skills perfetto andiamo avanti oh guarda come jumpo guarda qua perfetto oh oh che cazzo eh? perfetto eh? ok perfetto questa guarda come la jumpo guarda come la jumpo perfetto eh? parla cos'è? parla cos'è? parla cos'è? aia! cazzo mi avrebbe fatto un po' male eh? perfetto cosa? ora 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 Cazzo, cazzo Essere arrivata, cogliele Veloce No, no, ci stuperebbe questa Non andare bene Vaffa a culo Pesso di merda Ok Ok, passo di merda Non ci supererà mai Ok Non ho preso check point Ok Collele, collele Salta qua Su A cazzo Oddio